Ciao a tutti, buonasera questo sarà un video dove farò vedere una maschera fai da te, molto semplice occorre un piccolo recipiente una piccola ciotolina in plastica come questa che ho comprato alla Coff un cucchiaio in legno come questo piccolo, medio, grande poi io ho scelto una maschera per i capelli che non utilizzo di solito che è questa della Frank Provost che devo dire la verità non mi fa impazzire ed è una maschera nutriente a burro di karité io andrò semplicemente a renderla più ricca aggiungendo qualche ingrediente allora innanzitutto prelevo dal vasetto della maschera due cucchiai abbondanti di maschera appunto e li vado a mettere nella mia ciotolina ok più o meno la quantità è questa dopo vado a prendere questo miele che secondo me è molto pratico questo miele di fiori che ho acquistato alla Coff è molto pratico rispetto al vasetto di vetro perché questo si può tranquillamente quindi versare appunto il miele senza problemi direttamente premendo dall'alto e facendo un po' riuscire appunto il miele ne aggiungo, ne metto un po' ecco qui e mescolo a questo punto vado ad aggiungere un po' di monoide la Nour è un olio fantastico sia per il viso ma anche per i capelli vi dà un profumo buonissimo e nutre i capelli mi metto circa una decina di gocce andrà quindi ad arricchire la mia maschera e mescolo quindi incorporo bene l'olio di Monoi e piano piano sta venendo una maschera molto nutriente adatta a chi ha i capelli secchi o molto secchi eccola qua a questo punto vado ad aggiungere un pochino di balsamo di micro al cocco della Splendor che ho acquistato da Acqua e Sappone così come ho acquistato anche l'olio di Jojoba della Equilibra una marca che mi piace molto e della quale proseggo diversi prodotti questo olio di Jojoba mi piace molto è un olio sicuramente molto nutriente e vado a sfruttare 4 bocce o 4 sfruttate ho utilizzato ovviamente i prodotti che avete in casa quindi se avete altri oli che vi piacciono che rispitate migliori utilizzateli ecco qua questa maschera sta venendo benissimo forse è un pochino liquida un po' troppo quindi vado ancora ad aggiungere un po' di miele mescoliamo bene in questo modo ed ecco qui la nostra maschera per i capelli secchi o molto secchi ciao alla prossima ecco qua Grazie.